del telegiornale, dei fatti parlamentari, della fiction. La nostra Laura Costantini ce la riassume per grandi linee in questo servizio. Vediamo. Laria, le sue espressioni erano un po' variegate, erano un po'... No, sono... sono però... Tornassi indietro, se avessi chiaro, per esempio, di voler fare l'attrice... Ha un po' subito questo paragone oppure l'ha vissuto assolutamente con serenità? C'è uno squadrone di latina, a quanto pare, di belle ragazze che vengono da latina. Beh, saranno beati, saranno felici. Bene, anche lei ha fatto Miss Italia, vero? Sì, nel 98. Nel 98. Vinse chi? Lei parla del set. Lei parla del set. Questo è di mia competenza. Il resto però mi dicono... Con Ilaria Spada... Ilaria, detto che non è l'Isola dei Famosi la sua massima aspirazione. Andiamo subito a vedere dove oggi si trova la nostra Federica De Denaro. Federica, grazie. 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 Arrivederci. Arrivederci. Allora... Noi adesso... Eh...